3bimeteo.com consulta le previsioni sempre aggiornate su 3bimeteo.com Previsioni del tempo per venerdì 26 agosto. Non sono previsti cambiamenti, ancora alta pressione con sole e caldo su tutti i settori. In Puglia bel tempo e cieli sereni, stesse condizioni in Basilicata eccetto poche nubi in montagna al pomeriggio. Bel tempo con cieli sereni anche in Molise, salvo innocui annuvolamenti ad evoluzione diurna che interesseranno le aree interne appenniniche in rapido dissolvimento entrosera. Temperature stabili su valori oltre le medie del periodo e punte di 37-39 gradi sulle pianure interne. Venti deboli a regime di brezza con mari calmi o quasi calmi, localmente poco mossi nelle ore pomeridiane. 3bimeteo.com consulta le previsioni sempre aggiornate su 3bimeteo.com